È stato pubblicato sulla rivista del gruppo Nature Communication Medicine lo studio condotto dal team dell'Università di Verona guidato da Donato Zippeto e Luca Dalle Carbonare con Maria Teresa Valenti, Zeno Bisoffi, Sara Mariotto, Sergio Ferrari e Ernesto Crisafulli in collaborazione con l'ospedale Sacro Cuore di Negrari, San Raffaele di Milano, l'Università di Trento, la start-up Covid Technologies. La domanda, come differisce la risposta immunitaria di chi ha contratto il virus e chi no alla vaccinazione Covid-19? Noi abbiamo fatto uno studio specifico sulla risposta vaccinale sia in chi aveva avuto precedentemente l'infezione e chi non aveva invece avuto l'infezione stessa e abbiamo visto una risposta differente nelle due popolazioni. Chiaramente chi ha avuto l'infezione pregressa ha avuto una risposta più pronta e più efficace. Ormai è risaputo che chi ha avuto l'infezione potrebbe giovarsi anche di un'unica somministrazione di vaccino. Ma è interessante valutare come peraltro la risposta al vaccino si modifichi nel tempo. Sembra quasi che il vaccino possa andare a richiamare un'immunità pregressa che abbiamo perché magari in passato abbiamo incontrato degli altri coronavirus, quelli del raffreddore, simili a questo e quindi quando ci vacciniamo da un lato facciamo degli anticorpi specifici contro questo nuovo virus dall'altro andiamo a richiamare questa immunità pregressa. Quindi si lavora su questi due aspetti. Questo potrebbe spiegare per quale motivo questo virus, questo nuovo coronavirus è meno letale rispetto ad altri coronavirus che abbiamo già incontrato negli ultimi vent'anni. Il virus della SARS aveva una letalità del 10%, il virus della MERS addirittura del 30%, quindi molto molto più pericolosi. Quindi meno letale probabilmente perché questa immunità pregressa in qualche modo già ci protegge e per fortuna che è meno letale, si immagini che disastro sarebbe stato. Dall'altra potrebbe spiegare per quale motivo i vaccini sono così efficaci, raggiungiamo livelli oltre il 90-95%. Lo studio è stato condotto su un centinaio di persone e ha ricercato anticorpi diversi da quelli utilizzati per i test sierologici IgG, andando ad analizzare altri tipi di immunoglobuline, le IgA e le IgM, le prime delle quali prodotte nelle mucose delle vie respiratorie. Studiando la risposta immunitaria dei soggetti appunto esposti al virus, abbiamo notato che vi è anche una popolazione di IgA mucosali molto importante nell'opporsi all'ingresso del virus. Poter stimolare questa popolazione anticorpale potrebbe essere una strategia efficace nel prevenire l'infezione. Grazie.